Egregio Dottor Jones, io rappresento un cliente molto facoltoso che desidera introdurre i salmoni nello Yemen. Gentilissima Harriet Chetwood Talbot, se il suo sceico vuole buttare via i suoi soldi, perché non si compra una squadra di calcio? Sì, primo ministro. Me ne sto occupando, credo di aver trovato qualcosa che le piacerà. Voglio buone notizie dal Medio Oriente, una grossa storia. Al lavoro. Gruppo femminile in torne in Medio Oriente. Forse. No, meglio di no. Progetto per l'introduzione della pesca al salmone nello Yemen. Questa è una presa in giro. Ci sono due milioni di pescatori nel Regno Unito. Due milioni? Tutti lì ad agitare le canne da pesca? Splendido. È appena diventato un progetto prioritario. È palesemente ridicolo. Dovremmo catturare decimila salmoni, portarli vivi nello Yemen per consentire al suo sceico di tirarli fuori dall'acqua per puro divertimento. Fino all'arrivo della stagione secca, quando moriranno tutti. Trovo l'uscita da solo. Lei mi crede pazzo? Sarebbe un miracolo se dovesse accadere. È come se fossi rimasto bloccato per anni. Sono geneticamente programmato per vivere una vita noiosa e banale. Se farà questa cosa senza metterci il cuore, credo che non arriveremo a niente. Devi avere fede, dottor Alfred. Non trovi che stia andando molto bene? È un'esperienza straordinaria. Non stavo parlando del progetto. No, nemmeno io credo. Fede, dottor Alfred? Sì, d'accordo. Allora, fede. Comincio a credere che questa folla impresa potrebbe anche riuscire. Guarda! Buon compleanno, Patricia! Oh sì, ce ne fossero come voi tra i ministri.